Si è verificato l'ennesimo caso di bullismo a Roma. A finire sotto accusa questa volta un istituto superiore del quartiere Fidene al nord della capitale. 8 minorenni sono finiti nel milione di inquirenti per aver vessato, sottoposto, per ogni genere di vessazione il loro coetaneo per ben 3 anni, pensate. La cosa più inquietante però è il fatto che questo coetaneo sia stato ripreso con il videotelefonino da uno dei ragazzi coinvolti mentre viene inseguito a colpi di zaino sotto gli occhi indifferenti di un insegnante. Ed è proprio questo il punto incredibile, il punto cruciale. Io di fronte a questo episodio sono allibito. Non possiamo tollerare una cosa del genere. Ci stiamo abituando a fatti di questo tipo. Questi fatti stanno entrando nella contabilità quotidiana e purtroppo spesso dopo lo sgomento iniziale l'opinione pubblica lascia dietro di sé soltanto molta indifferenza. Non possiamo tollerare più questo perché il sentimento principe che l'opinione pubblica deve nutrire non può essere indifferenza chiaramente. Ma bisogna pensare, ritornare su questi argomenti, approfondirli. Perché la cosa più grave è che ci sono degli insegnanti in questo caso coinvolti e che sono rimasti indifferenti. Perché se le accuse mosse nei loro confronti dovessero risultare fondate, qui troviamo manifestamente di fronte a un caso di Chiara, la palissiana, manifesta incompatibilità professionale. E noi, io da tempo, crediamo che per l'accesso alla professione scolastica, perciò per partecipare a dei concorsi per docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, c'è bisogno di essere sottoposti a degli screening psicologici per valutare l'attitudine alla professione. Casi come questo, naturalmente, mi inducono a ribadire con forza questo concetto, chiaramente senza tralasciare il fenomeno culturale che in questi casi sicuramente assume rilievi importanti, chiaramente. Anche se si ritaglia la sua parte di importanza. Al di là di ogni considerazione, comunque, la cosa più inquietante e che mi produce tanta rabbia è che, proprio sotto l'indifferenza degli insegnanti, questi episodi sono susseguiti per così tanto tempo. Perciò questa condotta delittuosa, criminosa, è stata perpetrata ai danni di questo coetaneo per tantissimo tempo. Naturalmente con la complicità silente e immobile dei docenti e che, appunto, hanno favorito il protrarsi dell'evento delittuoso. Sembra addirittura che le prime risposte dei docenti siano state addirittura rivolte a minimizzare l'accaduto. Si è parlato addirittura di una ragazzata, è stato questo, questo episodio è stato bollato come una ragazzata. Ragazzi, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo dicendo, a che punto siamo arrivati in questo paese? Vi rendete conto a che punto siamo arrivati in questo paese dove degli insegnanti assistono a episodi di bullismo e addirittura bollano il tutto come una ragazzata? Ma siamo sicuri che questi insegnanti sono idonei a ricoprire il ruolo che gli è stato affidato istituzionalmente e pubblicamente? Qui bisogna riflettere molto bene, bisogna riflettere molto bene perché i reati contestati ai ragazzi sono molto gravi. Si parla di estorsione, violenza privata, aggressione. In questo caso a mio avviso è stato attraversato il rubicone della vergogna. E io, nonostante la minoretà, auspico punizioni esemplari in sede giudiziaria, qualora naturalmente il tutto venisse provato, chiaramente, nelle aule competenti. Però è necessario in ogni caso un impegno istituzionale che inasprisca, che prevede un inasprimento delle pene anche per i minorenni per quanto riguarda i reati che rientrano nella sfera del bullismo. Naturalmente non possiamo ignorare, come detto poc'anzi, il fenomeno, il fattore culturale appunto, che sta alla base di questo aberrante fenomeno. Siamo in attesa, e lo pretendiamo, lo pretendiamo, di un'opera di prevenzione socio-culturale finalizzata ad arginare un fenomeno che è molto più diffuso di quanto le mere statistiche ci mettono a fuoco quando scoppia poi il caso, chiaramente, perché le statistiche naturalmente mettono a fuoco situazioni che vengono denunciate, in qualche modo vengono scoperte, in questo caso è stato scoperto in un altro modo. Però sicuramente i casi sono molti di più di quelli di cui veniamo a conoscenza, perciò l'atteggiamento, la cosa che io penso e noi tutti pensiamo come movimento e che spesso a favorire la genesi di questi atti di bullismo è il menefreghismo degli adulti, l'indifferenza, l'atteggiamento che gli adulti hanno nei confronti di questo fenomeno che tendono a minimizzare, perciò chiaramente, sono minimizzando il tutto, chiaramente danno un'infa vitale poi a quello che è la nascita appunto di fenomeni verituosi di questa fattispecie, chiaramente. E spesso si fa finta di non vedere, anche se si sa, si sa ma si fa finta di non vedere, ci si rifiuta spesso di pensare ai propri figli come dei delinquenti, però si dimentica spesso, si dimentica soprattutto in questi casi, quanto il fatto di appartenere al branco possa mettere in evidenza poi proprio la componente aggressiva del giovane che magari è un giovane che può essere anche tranquillo, però l'appartenenza al branco spesso lo può in qualche modo fare esprimere al giovane se ha una componente aggressiva recondita la può fare esprimere, può dare possibilità. Perciò l'appello che noi rivolgiamo, io personalmente, tutta l'Italia dei diritti, rivolgiamo ai genitori è quello di captare ogni campanello d'allarme che in qualche modo possa far trapelare fenomeni, atteggiamenti riconducibili al bullismo, naturalmente anche sia sotto forma passiva che attiva. È una cosa molto importante, è chiaro che i genitori sotto forma passiva sicuramente è più facile che possano in qualche modo correre ai ripari se si accorgono che il figlio in qualche modo viene vessato. Perciò forse sono più da mettere in guardia, da sollecitare proprio a livello culturale nei confronti di questo fenomeno i genitori che invece si accorgono che i figli sono coinvolti ma in forma attiva. Chiaramente non sono vittime, perciò si rifiuta di pensare che sia un delinquente il proprio figlio, come abbiamo detto poc'anzi, e naturalmente si fa finta di non vedere, si fa finta di non vedere per evitare appunto di porsi il problema. Questo non può succedere, mi raccomando, il nostro appello indiscusso, deciso, fermo è quello che i genitori inizialmente devono tutelare, perché in questo modo significa anche tutelare i propri figli, se sono i carnefici in questo caso, perché quello che noi chiediamo comunque è un asprimento molto severo delle pene, anche per i minorenni, quando si sono reati di questo tipo, perché poi queste sono situazioni che possono in qualche modo coinvolgere, possono segnare psicologicamente e fisicamente il futuro di chi purtroppo spesso viene vessato nelle aule scolastiche. E ripetiamo, gli insegnanti devono vigilare, l'indifferenza degli insegnanti è la cosa più grave che possa succedere, casi come quello di Fidene non ne vogliamo più sentire parlare, perché di nuovo ripetiamo, screening psicologici, test psicotitudinali, per chi accede, per chi cerca di accedere alla professione docente è molto importante, altrimenti si parla di incompatibilità professionale, bisogna verificare se ci sono le attitudini psicofisiche per poter svolgere un così importante ruolo istituzionale.